Grande festa fermo per la riapertura della Sala dei ritratti, uno dei luoghi simbolo della città non solo da un punto di vista storico-artistico, bensì anche per l'alto valore sociale e aggregazionale. Si tratta in realtà della riapertura, dopo quasi tre anni dal sisma che nell'ottobre 2016 lo danneggiò, dell'intero piano nobile di Palazzo dei Priori, che oltre la Sala dei ritratti ospita quella del Consiglio, quella degli stemmi e il gabinetto del Sindaco. Tante le autorità presenti, come l'assessore regionale alla cultura Moreno Pieroni, che ha sottolineato la grande ed inusuale vivacità e ricchezza culturale di Fermo, dove spesso è chiamato ad inaugurazioni di mostre come quella della primavera dell'anno scorso sul 400 o nell'agosto del 2018 della Sala del Mappamondo rinnovata. Una conferenza ricca di ospiti, aperta dall'assessore alla cultura del comune di Fermo, Francesco Trasatti, moderatore e tre di union tra gli ospiti istituzionali, tra i quali il nuovo prefetto di Fermo, Vincenza Filippi, per la prima volta ospite della Sala dei ritratti, e tutti coloro che hanno reso possibile questo restauro e recupero, come l'architetto Andrea Coscia e l'ingegnere Massimiliano Tarquini, che hanno spiegato i vari step dei lavori. Grande gioia per il sindaco Paolo Calcinaro, che ci ha ospitato nel suo recuperato gabinetto di Palazzo dei Priori, con tanti cittadini fuori, ansiosi di riammirare la nuova veste del palazzo, simbolo della città. Che cosa si prova, sindaco, a tornare in questi luoghi e a riappropriarsi di questo palazzo, che è un simbolo per la città, oltre che un bene culturale e storico? Sono veramente contento, perché questo torna a essere un altro cuore pulsante della città, e la città ne ha bisogno di questi cuori pulsanti. La soddisfazione è grande. Un lavoro importante, un lavoro sinergico, che è partito come per la Sala del Mappamondo, da alcuni fondi assicurativi, insomma, di cui disponeva la città di Fermo, in maniera lungimirante, insomma, nel tempo, ma anche tante altre componenti. Chi ha concorso a perché tutto questo avvenisse? Beh, ci sono anche fondi regionali, ma poi c'è un grandissimo lavoro degli uffici, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio cultura, dell'ufficio contratti, perché si è lavorato incessantemente. Lavorando anche a step, perché era importante aprire subito la Sala del Mappamondo, come è accaduto il 4 agosto dello scorso anno, e poi continuare a lavorare per recuperare quest'altra parte fondamentale del nostro Palazzo dei Priori. Una sorpresa importante, una scoperta avvenuta durante i lavori, che non fa che dare ancora più prestigio a questo momento di riapertura. Sì, poi c'è stato questo affresco che parla della nostra storia, ritrovata sulla Sala dei Priori, adesso sarà oggetto anch'esso di un restauro, perché è stato inchiuso per centinaia, anch'esso di centinaia d'anni, e abbiamo una traccia in più di quello che è la nostra storia. Un progetto che va avanti, con un nuovo evento che ci sarà, insomma, per parlare anche di questo palazzo, per riaprirlo, e come ha detto lei, tanta voglia di riappropriarsi di uno spazio pubblico, che è sempre stato luogo di incontro, dibattito e conferenze. Sì, stanno già fioccando le richieste, per fortuna, per conferenze, per seminari, per approfondimenti, e credo che presto, oltre questo momento a cui ti riferivi, credo che si possa fare anche un Open Day complessivo di tutto il Palazzo dei Priori, compresa anche la Sala dei Ritratti, la Sala del Mappamondo e il Rubens. Soffitto grigio e sedie in tinta, è questa la nuova veste della Sala dei Ritratti, riconcepita in modo polifunzionale per ospitare anche esposizioni, oltre che conferenze, convegni e dibattiti, in attesa che siano pronte le tavole e linee di Jacobello del Fiore, il cui recupero è stato fidanziato dal Pio Sodalizio dei Piceni, e ci si rappropriano anche del piano terra del Palazzo, del quale si occuperà sistema museo.